Gian Domenico Oldano di RCS Media Group, io sono responsabile delle architetture e TLC e operation all'interno dell'ICT. La nostra azienda nell'ambito del cloud si è mossa con una strategia direi di tipo inside out cioè quindi lavorando prima all'interno soprattutto a livello infrastrutturale per rivoluzionare completamente la struttura dei data center cercando di introdurre tecnologie che ci abilitassero verso il cloud quindi operando a livello di virtualizzazione su tutti i layer dallo storage alla rete ai server e poi anche sulle strutture di gestione quindi backup e il monitoraggio e i sistemi di controllo e di governance che sono fondamentali poi per garantire diciamo l'automazione dell'infrastruttura. Poi ci siamo rivolti anche agli aspetti di standardizzazione sulle piattaforme invece di sviluppo applicativo finendo degli standard di sviluppo centrati su tecnologie Java e .NET e portando tutte le applicazioni ad operare secondo questi standard con interfacce web oriented. I benefici principali di questo approccio sono stati proprio di ridurre tantissimo tempi di sviluppo, tempi di approvvigionamento delle infrastrutture e quindi poter fornire al business in tempi brevissimi nuove soluzioni esistenti o soddisfare richieste di risorse su soluzioni esistenti. Poi ovviamente nell'ambito sempre del cloud ci siamo rivolti anche per quanto riguardava nuove esigenze andando a sondare il campo dei software as a service e quindi adesso stiamo acquisendo piattaforme nel campo del CRM e del customer analytics, social CRM, marketing e così via e ci stiamo rivolgendo appunto verso soluzioni di tipo SAS. Uguale approccio anche nel campo di aree più commodity come sono quelle della mail dove appunto stiamo vedendo la possibilità di passare da una mail on premise a una soluzione di tipo cloud. Grazie. Grazie. Grazie.